Buongiorno a tutti. Prego, segretario, faccio l'appello. Di Biasi Franco. Di Filippo Giuseppe. Assente giustificato in ospedale. Cispino Francesco. Russo Gennaro. Assente giustificato anche Russo. Marciano Pietro Paolo. Cammarota Giuseppe. In arrivo. Mettiamo l'assente. La porta Massimo. Verrone Gianluigi. Dinardo Ileodoro. Bufano Bruno. Framondino Luigi. Comite Nicola. Botticchio Giuseppina. Coppola Salvatore. In videoconferenza. Abbate Agostino. Pesca Mario. Adamo Coppola. Presente. La seduta è valida. Prima passare ai punti dell'ordine del giorno. Voglio formulare il nome del Consiglio Comunale. Sentite con toglianza l'assessore Lampasone per la perdita della cara suocera. Poi porto a conoscenza che gli assessori che sono assenti per giustificati motivi non possono partecipare alla seduta. Prego Sindaco per comunicazioni che mi ha richiesto. Sì. Un coro saluto a tutti. Naturalmente sapete che ci sono alcuni consiglieri che sono in attesa di tampone. Altri che hanno purtroppo manifestato la malattia del Covid. Quindi riguarda qualche assessore. Siamo un po' a ragchi ridotti. Però è un consiglio importante. Voglio cominciare con due comunicazioni positive e belle per la città di Agropoli. La prima è che stamattina l'ufficio ragioneria mi comunicava una cosa che avevamo detto con l'assessore al bilancio che non è presente. Quindi mi dispiace, non possiamo annunciarla insieme. Ma come annunciammo all'approvazione del bilancio consuntivo e al bilancio preventivo, era ricominciato un percorso virtuoso del bilancio del Comune. E il primo segnale positivo è oggi abbiamo recuperato il pareggio per quel che riguarda la cassa. Avevamo vissuto anni in cui la cassa era sempre negativa, eravamo sempre in anticipazione a causa di una tutta una serie problematiche di difficoltà di incasso. E oggi, dopo tanto tempo, tanti mesi, tanti anni, abbiamo cancellato questo parametro strutturalmente deficitario e finalmente la cassa è in positivo. Attendiamo, o stamattina era in positivo di 8 mila euro, però ci saranno ancora altri versamenti che l'Agenzia Generale ci farà per quel che riguarda l'Imo. Quindi abbiamo questa bella notizia dal Consiglio perché è un lavoro che abbiamo fatto tutti quanti insieme di ripristino di queste condizioni. E quindi mi faceva insomma piacere annunciarlo, è un fatto positivo ed era giusto dirlo a tutti. Poi la seconda notizia è che l'Aggiunta regionale della Campania, utilizzando i fondi FDR, ha annunciato una serie di finanziamenti importanti per quel che riguarda il Comune di Agropoli. ha finanziato, ve lo leggo testualmente, il progetto di restauro, riqualificazione, recupero e risanamento conservativo del castello. Come sapete noi avevamo una storia che non comincia oggi, ma una storia che è legata a questa amministrazione, nei tempi dell'amministrazione Alfieri, quando questo Consiglio con grande coraggio acquisì al patrimonio del Comune di Agropoli il Castello Angelo-Aragonese. Poi nel tempo abbiamo lavorato tutti insieme per renderlo praticabili, utilizzando i fondi comunali per renderlo fruibile. Questa amministrazione poi ha, con un ulteriore atto di coraggio, ha voluto partecipare sui fondi di rotazione alla progettazione, richiedendo alla Regione 120.000 euro per la progettazione del restauro della struttura. Sapete che in quel caso se il finanziamento non sarebbe arrivato sarebbe stolento a dover pagare questi fondi di rotazione, però così come il Governatore si impegnò al suo tempo, chi aveva la voglia di investire sui fondi di rotazione avrebbe avuto una corsia preferenziale proprio per il finanziamento finale, cosa che è realmente accaduta. E quindi proprio ieri la Regione ha annunciato il finanziamento del progetto di restauro, quindi 120.000 euro dell'importo contrattuale del progetto, è diventato un progetto di 4.473.265.11 che è stato finanziato. La Regione dà dei tempi di attuazione, data di avvio dei lavori prevedibili 15.07.2022, naturalmente da un anno di tempo, ma è chiaro che è un'opera importante, quindi siamo molto felici di tutto questo. Questo è il risultato, ripeto, di un grande impegno dell'amministrazione Alfieri con l'acquisto, nel lavoro, come ho detto, di tutti noi, per ognuno per la sua competenza, nel lavoro di restauro, di finanziamento della progettazione. Oggi viene coronato, penso, un importante sogno per la nostra città, quello della definitiva di qualificazione complessiva. Il borto è importante, 4.500.000 euro, quindi era un'altra bella notizia che potevamo dare a questo Consiglio. a fine anno, credo, un notizio che rallegri un po' tutti, anche perché il castello in questi anni, piano piano, ha assunto un importantissimo luogo di accoglienza per tantissimi eventi legati alla cultura, al turismo, è diventato centrale anche nel logico dell'accoglienza del centro storico. e questo progetto di ristrutturazione, insomma, che oltre a risanare la struttura, implementa tutti gli spazi coperti, quindi tutta la parte del palazzo baronale, sostanzialmente viene a essere recuperato, dando la possibilità di avere decine e decine di metri quadrati coperti per utilizzarlo ancora meglio, con obiettivi ancora più ambiziosi. Quindi questo ci rallegra molto. Insomma, veramente mi faceva piacere comunicarlo al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Passiamo agli argomenti dell'ordine del giorno. Primo punto dell'ordine del giorno, l'interrogazione dei consiglieri Botticchio-Pesca al Sindaco su eventuali novità sulla strada provinciale 184 Trentova. Prego, consigliere Botticchio, poi Pesca e poi il Sindaco che vi risponde. Buongiorno Sindaco e buongiorno Presidente del Consiglio. Questa è la quarta interrogazione che io ponco a voi. Un'interrogazione, secondo me, molto molto importante e anche delicata. Parliamo di un'arteria importante che collega la zona di Trentova al porto di Agropoli e al centro di Agropoli. Una strada, purtroppo da qualche anno, abbandonata, dove la gente mi chiama in continuazione. dove ci sono state anche vittime, ci sono quei massi laterali, ci stanno degli smontamenti, frane e quant'altro. E quella strada, poi, non dimentichiamo che il porto e Trentova e le altre zone ci fanno un rimessaggio, caro Sindaco, cioè la passano barche, passano degli autosnodati che trasportano, diciamo, fanno questo rimessaggio barche. Quindi noi stiamo a dicembre, ogni tanto mi sento dire i se, i ma e i forse erano tre fessi e morirono tutti quanti, perché chi se non va in nessuna parte. Poi vediamo. e quindi vedo che in provincia si corre, si va a votare, abbiamo i nostri rappresentanti locali, però non ho mai visto. Poi, se lei in questi giorni ha fatto una nota alla provincia, ha fatto una nota, questa è l'educazione, se sta al telefono mentre io parlo, ma scusa, ma lei è un sindaco? Capito? Cioè, io faccio un'interrogazione. Conosco l'interrogazione, però se questo ho chiamato l'ufficio perché mi porti la nota della provincia. Ah, perfetto. Ma stanno stampando. Eh, vabbè, ma lo poteva anche... Eh, ma io non la volevo disturbare, l'interrogazione. Ah, ok. Però lei pensa sempre male. Eh, pensa sempre male. No, è lei che... Perché non si chiama... Cioè, l'interrogazione, lei l'ha letta, non si fa portare carte così, improvvisando l'interrogazione. Vabbè, questa è l'educazione che lei, per l'amor di Dio, l'educazione, scostumatezza perché sennò poi offenderei i suoi genitori e non voglio perché sono brave persone. Va bene così. Io aspetto una sua risposta. Aspettiamo le carte. Mia interrogazione è presentata da giorni, eh. Le carte si chiamano il momento che si fa l'interrogazione. Ma dove siamo? Allora, io quello che voglio dire, caro sindaco, ma quella strada, ma veramente possiamo, arriva a primavera, arriva all'estate, con quella strada di quella portata dove la gente si... Io ho capito i feste, le rassegne, il cavallino d'oro, e tutto quello che... Eh, ma noi vogliamo i fatti, non volimmo i chiacchiari, i manifestazioni, feste e festecelle. Noi vogliamo i fatti, quella strada, c'è una possibilità o ci dobbiamo riunire noi cittadini, facciamo una colletta e aggiustiamo quantomeno quello che si può aggiustare. Perché se si è arrivato a questo, che i cittadini si devono riunire per sistemare quella strada, ma anche chi ci lavora, là ci passano i barche, autosnodati, autoarticolati, è stata una vittima, non voglio essere ripetitiva. Spettiamo ste carte, che vi voglio dire? se non ho più parole. Grazie, prego, consigliere Fesca. Buongiorno a tutti. Allora, anche io voglio parlare di questa questione della strada di Pondola, perché sono andato personalmente su questa strada e ho notato che effettivamente c'è un pericolo enorme di chiusura della strada stessa. Noi tutti sappiamo che là dove dovesse essere chiusa quella strada, per la prossima estate oppure successivamente, è un danno enorme per l'intera città. È una strada fondamentale per il turismo agropolese, nonché per quanto riguarda il rimessaggio delle barche che ci sono là. Io, sindaco, vorrei, ho come proposta, no? Allora, noi abbiamo la possibilità di sapere se veramente c'è la volontà di poter intervenire da parte della provincia. Come farlo? È semplice, c'è bisogno di verificare se nel bilancio che si approva in provincia viene prevista una somma da stanziare per la realizzazione di quella strada. Se ciò non avviene, segno che non c'è una volontà da parte della provincia di poter intervenire con forza, perché è chiaro che è un intervento economico abbastanza rilevante per poter ristabilire quella strada stessa. Ma via di più, cioè noi come Consiglio Comunale possiamo anche chiedere alla provincia se c'è un disinteresse verso quella strada di poterla acquisire al patrimonio del Comune di Agropoli. Si potrebbe fare anche una gestione al Comune di Agropoli della strada. Il che cosa potrebbe comportare? Potrebbe comportare come giustamente lei stava facendo riferimento alle fonti regionali che vengono stanziati anche per il Comune di Agropoli. Potremmo chiedere poi di mettere di sicurezza con dei fondi del Comune di Agropoli stesso con dei fondi che il Comune di Agropoli può chiedere alla Regione o eventualmente ad altri enti sovrapposti. Quindi questo è qualcosa che dovremmo fare perché se noi ci troviamo l'anno prossimo nelle stesse condizioni possiamo rischiare veramente di vedere che quella strada è giusta. Volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda la strada di Trentova se non vado errato c'è anche una competenza da parte del Parco Nazionale del Cilento quindi noi potremmo sfruttare per quanto riguarda il rivisto della strada stessa anche quelli che sono i fondi del Parco Nazionale del Cilento perché quella zona rientra nel parco. Quindi quello che io voglio chiedere come proposta è questa laddove vi è un disinteresse della provincia nella realizzazione della strada fare una delibera del Consiglio Comunale eventualmente con diffida alla provincia stessa di intervenire e chiedere eventualmente anche l'acquisizione a patrimonio del Comune di Agropoli della strada stessa o quanto meno quello di poterlo eventualmente cederla a Parco Nazionale del Cilento che con i fondi che poi si potranno ricavare rimetta la sicurezza. Nel frattempo è chiaro che dei lavori di manutenzione della strada vanno fatti noi abbiamo la nostra azienda del Comune di Agropoli che può intervenire per poter quanto meno fare la manutenzione della strada stessa. Grazie. Grazie a lei consigliere prego signor Sindaco Innanzitutto mi dispiace se il consigliere Botticchio ha letto male il fatto di rispondere al telefono ma lei sa che nel mio ruolo in questo momento particolare è necessario anche interrompere se necessario il Consiglio Comunale a cui sono priorità e urgente che impongono anche l'interruzione di un Consiglio Comunale atteso è una situazione molto delicata che sapete che viviamo in città e quindi nel mio ruolo di capo della protezione civile ho anche la necessità di dover rispondere al telefono ma non voleva essere questo né un'offesa nei suoi confronti con il consigliere Botticchio né tantomeno un'offesa verso il Consiglio Comunale ma è una esigenza del ruolo che talvolta prescinde ma la mia buona educazione credo non può essere messa in discussione e quindi mi auguro veramente che la sua osservazione sia stata soltanto una caduta di stile e non una reale accusa nei miei confronti detto questo è chiaro che io ho anche dopo l'ennesima interrogazione su questo argomento voluto una nota per iscritto della provincia ho inviato la stessa interrogazione alla provincia per avere delle risposte concrete il dirigente della provincia il dottore Ranesi che ho sentito ieri mi ha relazionato cosa che farò io al Consiglio Comunale ma mi riservo insomma di inviare stamattina purtroppo la nota non è arrivata ma ha promesso che ieri l'avrebbe inviata siamo in un periodo anche qui particolare di vacanze Natale problemi naturalmente impellenti anche per quel che riguarda la provincia stessa e quindi la preparazione della nota che ha impiegato comunque una rivisitazione complessiva perché voleva essere esaustiva e tutta la storia che riguarda la strada stessa ha imposto qualche giorno di raccolta di notizie e quindi non è arrivata puntuale al Consiglio ma mi riservo insomma di inviarvela appena arriverà nelle nelle mie mani però ciononostante insomma vi aggiorno su quello che è il ragionamento che ha fatto la provincia che mi sono appuntato proprio per essere precisi nella discussione che facemmo ieri proprio con il dottore Ranisi sostanzialmente gli elementi essenziali del ragionamento che poi leggerete per iscritto sono sostanzialmente due il primo è che rispetto alla progettazione la progettazione di un intervento importante di ristrutturazione della strada stessa è inserito nell'elenco interventi da finanziarsi con i fondi di cui delibera cipo e 54 2016 fsc 2014 2020 l'accordo quadro triennale per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale dgr 104 2018 protocollo d'intesa tra regione campagna e provincia di salerno finalizzata la salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale trasmesso con protocollo PSA numero del protocollo 19 2020 quindi la provincia di salerno e regione campagna un'intesa in un accordo quadro complessivo sulle strade di interesse provinciale di cui necessario un intervento importante di manutenzione straordinaria la strada segnalata è stata inserita finanziata la progettazione e quindi si è avviato l'iter come io già annunciai qualche mese fa rispetto a un intervento diciamo definitivo di soluzione del problema ma in ogni caso la provincia di salerno ha effettuato di collaborazione con cui una perizia per un intervento immediato di qui a qualche settimana loro ritengono probabilmente già dal mese di febbraio un intervento che è stato finanziato e inserito nel bilancio della provincia come anche diciamo indicava il consigliere Pesca rispetto a una serie di interventi di manutenzione straordinaria perché la provincia ripartisce diciamo le strade provinciali in settori e finanzia per la manutenzione straordinaria ogni anno circa 500.000 euro ogni settore stabilendo le priorità quando viene deliberata questo finanziamento e la nostra strada provinciale quella interessante dell'interrogazione è la prima insieme a un'altra strada che collega Capaccio alcuni di Roccaraspi anche lì una strada chiusa che ha una sola corsia di marcia in questa fase sono le due strade che sono state finanziate ad un intervento diciamo di messa in sicurezza che avverrà diciamo da quello che la provincia prevede intorno al mese di febbraio barra marzo questi dettagli non li sappiamo ma li sapremo nelle prossime settimane quindi le notizie che possiamo dare ma che avrete con certezza dalla nota della provincia appena questa arriverà sono due quella che avevamo già annunciato di finanziamento della progettazione con finanziamento dell'intervento sui fondi dell'accordo quadro regione provincia e il secondo così come mi comunicava il consigliere Cerretani ieri lui si è adoperato per fare in modo che la nota arrivasse rapidamente purtroppo il dottor Anesi evidentemente ieri non l'ha riuscito a firmare o sarà arrivata e magari ce l'abbiamo a disposizione la stanno cercando dal protocollo potrarsi pure anche prima del consiglio la possono portare in cui appunto si certificava che comunque un intervento diciamo di messa in sicurezza avverrà nelle prossime settimane questo era quanto dovuto e pertanto credo di aver risposto all'interrogazione grazie signor sindaco prego consigliere Botticchi ok perdono la sua caduta di stile prima perché l'ha spiegata è perdonata noi perdoniamo sempre poi per quanto riguarda la sua risposta è stata una risposta abbastanza lunga fatta di molte chiacchiere e le chiacchiere lei lo sa trovano il tempo che trovano noi vogliamo fatti io penso che lei delle missive in tutto questo tempo le avrà fatte alla provincia penso che liberamente le poteva fare oppure cioè ha problemi il comune di Agropoli ad attaccare la provincia guida PD perché forse tra di voi non potete osare quindi lei è stato molto delicato verso l'apparato provinciale noi come popolo non siamo delicati noi vogliamo i fatti e vogliamo risposte concrete quindi in questi giorni voglio visionare le carte le missive che avete fatto ordinanze e quant'altro perché io penso che essendo una strada di estrema importanza e penso che il comune non dico che si è scagliato contro la provincia però mica io a febbraio l'anno scorso ho fatto la prima interrogazione io mi trovo quasi a febbraio a dieci mesi avere sempre risposte così a chiacchiere a voliamoci bene dice tanto ci vogliamo bene parliamo tutti insieme poi si vede io l'ho detto già questa cosa sarà seguita attentamente allora lei dice che a giorni si provvede ho parlato col consigliere ho parlato qua io seguirò passo passo ma non non ci passo solo io ci passa il sindaco ci passa il presidente ci passa tutta la maggioranza una maggioranza che non dice una parola ma sembra che deve parlare solo l'opposizione cioè ma quella strada la vede solo il consigliere Bottic scusate ma voi non ci passate di là è che era la strada più panoramica bella chi viene a Agropoli se fa un giro di Trentova mica va solo al castello sindaco l'attrattiva non deve essere solo solo il castello deve essere tutta Agropoli perché Agropoli è una città bellissima e vedere quello scorcio da Trentova con quelle ringhiere tutte rotte pavimentazione rotta strada che non si può guardare e i sei ma e poi vediamo parlare no io voglio i fatti quindi settimana prossima tutto il consiglio comunale tutta la maggioranza e mica possiamo venire sempre qua alziamo la mano e approviamo tutto e la città cade a pezzi scusate sindaco va bene io questo ho da dire aspetto le carte per il concreto concretizzare il chiacchiere vanno al vento se posso presidente se mi consente non volevo replicare al consigliere Botticchio ma è arrivata questa nota prima un inciso lei consigliere Botticchio non ha neanche l'idea degli scontri che abbiamo avuto con la provincia neanche l'idea e questi scontri le posso dire se vuole una testimonianza parli pure con l'ingegnere Agostino Sica che è parte non interessata che è parte terza rispetto alla provincia si faccia raccontare il sindaco alcuni di Agropoli il consigliere provinciale Cerretani quali scontri hanno avuto in provincia per difendere le istanze di questo ente è chiaro che in una logica come dire istituzionale gli scontri naturalmente si limitano a una serie di conversazioni dure che in qualche modo sottrino degli aspetti normativi di approccio ai problemi che la provincia di Salerno ha diverso rispetto a alcune di Agropoli ma probabilmente la provincia è anche giustificata giustificabile da una serie di problemi di carattere finanziario come sapete ora possiamo dire tutto e possiamo dire anche che hanno operato male però non possiamo non ricordare nel quadro generale che province sono state molte depotenziate rispetto alle esigenze che invece dovrebbero affrontare quindi dico che non l'hanno affrontate bene non le affrontano bene secondo noi però dobbiamo pur dire che in ogni caso non hanno più la capacità di intervenire come l'avevano in passato detto questo è arrivata la nota che diciamo vi consegnerò la nota se volete la possiamo leggere tutta oppure possiamo leggere la parte finale quella che è più interessante nella nota si ricostruisce sostanzialmente la storia in cui in merito a quando richiesti il cui una copra è intervenuta alcuni anni fa sulla strada provinciale 184 con lavori di sobborgenza a seguito di crolli di materali lapide e terrigene insomma racconta diciamo tutto quello che la situazione diciamo pregressa gli interventi in qualche modo utilizzati e poi va alla fine che ciò che ho diciamo vi ho già annunciato ma che rileggo per una questione di chiarezza tutto ciò esposto e premesso si specifica che tale progettazione cioè quella dell'intervento straordinario è incluso nell'elenco interventi da finanziarsi con i fondi di guerra delibera la Cipe 54 2016 accordo quadro triennale con i lavori di manutenzione straordinaria delle strade di interesse regionale e quindi qua c'è anche un protocollo di indesa cosa che avevo già detto e vi ribadiamo in ogni caso questo settore è provveduto a redigere perizie di manutenzione straordinarie per la sistemazione della tratta stradale in questione che è nell'elenco ufficiale del piano straordinario di manutenzione delle strade provinciali i cui interventi sono in corso di appalto e verranno realizzati nella prossima annualità nell'emora di una soluzione definitiva delle problematiche di oggetto questo settore resta a disposizione quindi come vede non sono chiacchiere sono atti abbiamo citato l'elenco degli interventi abbiamo citato come dire gli accordi quadri abbiamo citato addirittura i protocolli abbiamo citato il piano straordinario di manutenzione delle strade provinciali dove è stata inserita la strada provinciale di interesse la strada di strada 184 quindi riteniamo di aver dato una risposta esaustiva alla richiesta dei consiglieri naturalmente vi sarà inviata la nota che vi ho appena descritto il consigliere Pesca penso che sia esaustiva la risposta del sindaco se possiamo andare avanti prendo atto di queste risposte di quali sono i risposti l'unica cosa dobbiamo seguire attentamente tutto ciò che poi successivamente avverrà grazie grazie a lei passiamo al secondo punto all'ordine del giorno interrogazione del consigliere Giuseppina Botticcio al sindaco sulla vicenda del mammografo e parliamo di ospedale di Agropoli prego consigliere come lei ben sa sindaco noi come opposizione abbiamo avuto sempre a cuore l'ospedale l'ospedale non è più diciamo quella struttura dove ci sta sia il distretto che un reparto covid è un po' di pronto soccorsino lì codice bianco forse qualche cerotto qualche fleppo qualcosa però quello che abbiamo ce lo teniamo stretto non è che diceva uno meglio ferito che morto vabbè però la battaglia continua e quindi l'opposizione è sempre vigile la storia del mammografo come nasce viene inaugurato un mammografo ad Agropoli il 2019 l'8 marzo festa della donna ovviamente fa lo screening per la mammografia e per la prevenzione del tumore al seno quindi parliamo di salute parliamo di prevenzione parliamo di malattie questo mammografo poi resta chiuso nell'area covid il covid in gombe arriva e sembrerebbe che poi questo apparecchio di ultima generazione un apparecchio abbastanza costoso viene chiuso in una stanza e non viene usato manco se da quando è nato il covid non ci sono altre malattie le malattie restano è il covid che si è sopraggiunto al nostro modo di vivere è il covid che aggredisce noi non è che il covid può togliere altri tipi di malattie poi io leggo una nota da Salerno dalla direzione generale che addirittura quell'apparecchio verrà trasferito a Salerno sembra pastena non lo so perché è un apparecchio costoso evidentemente quell'area di Agro Lucerino Sarnese Salerno erano privi di quell'apparecchio e forse ne avevano quelli un poco più soft ovviamente io mi sono attivata perché io difendo ma d'altronde molte volte lo ha fatto anche lei perché qua non è che dobbiamo sempre e comunque puntare il dito forse lei nelle sue possibilità le cose le ha fatte nelle sue possibilità col mammografo io ci sono rimasta male perché io non posso vedere il mio distretto privato di un apparecchio di un'importanza estrema e purtroppo caro sindaco a noi non ci resta niente sai che ci resta di dire una parola di trovare una televisione che ci accoglie una testata che ci fa parlare e denunciare denunciare come siamo depredati perché per me siamo derubati perché non si può tollerare che un mammografo chiuso nell'area covid invece di trovare un'area destinata al funzionamento e dare ospitalità alle persone perché una persona dice mi faccio lo screening pago il ticket perché la gente dopo il covid ha pochi soldi ed è tanto avere un apparecchio nel distretto che funziona e quindi qui dobbiamo essere uniti non ci dobbiamo fare i dispettini tra di noi qua non si parla di bambini si parla di salute il covid è stato un macello ha devastato ha devastato anche l'attività di mio figlio di tutte le attività però le malattie avanzano non solo sono restate e quindi io dico il covid dico il mammografo il mammografo va difeso io non so io non ho sentito una parola dalla maggioranza molte volte vado io al distretto ho parlato con il dottore Giannattaso mi ha promesso che sarà ripristinato in un luogo del distretto che possa dare servizi all'utenza perché sindaco forse lei non lo ha saputo io il giorno di Natale ho perso mio cognato ho perso il marito di mia sorella che mi aveva cresciuto è stato un padre per noi e sapete come l'ho perso sindaco glielo dico col cuore ma perché io faccio politica ma io non odio nessuno io voglio bene il sindaco il presidente voglio bene a tutti perché l'animo lo dobbiamo tenere sempre pulito le battaglie si fanno ma con l'anima pulita e con le mani così io l'ho perso perché è stato portato a Vallo a Vallo non sono potuto intervenire sindaco forse lei non lo sa un'ora per il tampone perché lui essendo fatta anche la terza dose comunque dice devi aspettare il tampone quindi ha dovuto fare un protocollo dove ha perso quasi due ore e mezza tre ore poi l'hanno sbattuto sindaco su un'ambulanza l'hanno portato a Nocera perché solo Nocera alle tre di mattino quando è arrivato a Nocera sapete che gli hanno detto sindaco a mio nipote gli hanno detto non c'è niente da fare troppo tardi perché il cilento caro sindaco ma lei non ne ha colpa perché molte volte vedi si ci trova è stato depredato dalla sanità ma non solo a Grople da quanto hanno soppresso la Salerno 3 quando noi avevamo qualcosa dicevamo qualcosa si contava qualcosa al di là se uno è nemico o amico politico però c'era una presenza in regione noi non abbiamo più niente ci fregano pure il mammografo pure quello si vengono a prendere dal nord di Salerno e chi ci difende a noi sindaco chi ci difende noi in questa battaglia io voglio essere stretta vicino a lei vicino a tutti i consiglieri perché qua siamo maggioranza e opposizione è un mammografo cioè un un inter voi vi ricordate c'è il professore Graziusso dove salvava le persone a Vallo venivano da tutte parti perché Graziusso li visitava al pronto soccorso vedeva l'ischemia in corso dice portatemi lì su e gli apriva il cervello e adesso perché a Vallo non lo fanno più dice deve andare fuori di qua perché Vallo poi scrivete Dea la Dea ma forse la Dea dell'abbondanza volevano scrivere la Dea Dea di primo livello secondo ma finiamolo con queste recite e abbracciamoci tutti insieme e cerchiamo di difendere quello che abbiamo è un mammografo non è però per me tanto e poi ho visto mio cognato io l'ho perso poi sa sindaco come gliel'hanno restituita mia sorella e il marito la mattina di Natale non c'è stato niente da fare è andata e l'ha trovata su un tavolaccio poi l'ha dovuto pure cercare questa è la fine che faremo se noi politici non incominciamo a farci un esame di cosa vogliamo di cosa vogliamo vogliamo piacere vogliamo o vogliamo i diritti per tutti maggioranza opposizione popolo non popolo questo è qua non si fa i battagli nei banchi dell'opposizione perché bisogna fare male a qualcuno qua ci stanno sindaco depredando ci stanno rubando pure l'anima io ho perso mio cognato il giorno di Natale è una batosta perché era al di là che era una brava persona lo conoscevano tutti Agropoli quando è morto ha gente il prete l'ha dovuto cacciare fuori a dire ma venivano la gente in macchina dicevano perché a 68 anni era giovane perché a Vallo non sono intervenuti non potevano non lo so perché e poi vanno c'era ma lei immagini perché può toccare chiunque cioè bisogna viaggiare su un'ambulanza le gite si fanno sulle ambulanze adesso c'è rimasta l'ambulanza forse un giorno ci toglieranno anche le ambulanze cioè questa è una cosa grave sindaco veramente a me mi sono fatta un brutto Natale forse mi faccio pure un brutto Capodanno perché lui non c'è più però questo è stato un segno io sono stata toccata vicino per mala sanità aiutiamo la sanità riportiamo la sanità portiamo il professor come a Grazius portiamo la gente capace che ci cura finiamola con queste clientele e le clientele lasciamole fregare lasciamole fregare perdonate lo sfogo però sul distretto e sia sui reparti su questa struttura che ci stanno mille macchine la mattina poi l'ospedale non funziona ma sono mille macchine sembra il cardarelli dalle macchine parcheggiate e finiamolo cerchiamo di riportare la sostanza la risposta a chi ha bisogno perdonate lo sfogo grazie grazie consigliere prego signor sindaco ma consigliere Botticchio rispetto alla vicenda personale naturalmente non posso che fare le mie più sentite condoglianze per il lutto che l'ha colpito è chiaro che mi dispiace molto sono cose che non dovrebbero succedere e quindi mi unisco insomma al dolore che l'ha colpita nella maniera più affettuosa possibile detto questo e rispetto diciamo alla alla sua interrogazione anche io ho parlato con il dottore Giannattasio il quale mi ha si è meravigliato di un mio nuovo interessamento rispetto all'ultima volta che ne avevamo parlato lui ha rassicurato dimostrando anche con tutta una serie di atti che si è lavorato per allocare il mancro in un luogo dove potesse essere normalmente utilizzato tutte le procedure che dovevano essere fatte si stanno realizzando addirittura la ditta interessata ai lavori è stata già incaricata il problema era che ci siamo trovati poi a cavallo del periodo natalizio e quindi la ditta non è potuta intervenire ma subito dopo il termine del periodo di ferie insomma la ditta incaricata svolgerà i lavori così come da programma e quindi rispetto a novità future di eventuali spostamenti assolutamente non ce n'è nemmeno l'ombra e infatti lui si è meravigliato che io tornassi nuovamente a riparlare di questa questione dicendo che era stato ampiamente chiaro sul fatto che non ci sarebbero stati dubbi e che quindi la situazione è tranquilla e ripeto inizio mese di gennaio appena la ditta potrà mettere mano svolgerà rapidamente i lavori e quindi arriva nuovamente il mammografo attivo come nell'aspettativa di tutti grazie grazie signor sindaco consigliere botticchio se velocemente chiudiamo grazie sindaco e penso che la seguiremo insieme questa vicenda perché per il bene della città e della comunità grazie grazie a lei allora buongiorno colleghi allora volevo dire che la legge a tutti mi unisco al dolore mi unisco al dolore che ha colpito la famiglia botticchio e ovviamente insomma sono cose che non dovrebbero succedere mi rendo conto guarda però io partirei da un discorso un poco più più da lontano più complicato più complesso purtroppo guardate io nel corso di tutta la mia vita mi sono reso conto di una cosa insomma che purtroppo dico purtroppo perché ho avuto tante esperienze simili non è bastante non è sufficiente fare delle dimostrazioni reagire contro la pubblica amministrazione o fare una serie di manifestazioni purtroppo non sempre è sufficiente a fare questo non lo so ci saranno le ragioni di stato probabilmente che vanno al di là di queste nostre manifestazioni di questi nostri desideri che purtroppo ci vincolano e vincolano in un certo senso quello che potrebbe essere allora una condizione che potrebbe portare la vita del cittadino ad una condizione migliore a vivere uno stato di cose che sicuramente insomma potrebbe essere migliore rispetto a quello che viviamo quindi non lo so io sono costernato sono dispiaciuto perché ovviamente non è solamente questo il problema di problemi ce ne sono tanti c'è la burocrazia che ci uccide giorno per giorno di continuo e non ci dà scampo quindi veramente veramente in alcune situazioni non riesco proprio a capire il comportamento dello stato in generale non riesco a capire il comportamento della provincia che con tutto l'affetto a tutto il rispetto che ci sta con i consiglieri provinciali abbiamo un consigliere provinciale PD il quale è sempre a disposizione ci ha dato la mano con lo strumento urbanistico con il PUC ma è stata una battaglia durissima è stata veramente una battaglia durissima e quindi non lo so ci possiamo provare e noi ci proviamo perché questa legislatura in ogni modo quando si tratta della strada di Trentova si tratta dell'ospedale di tutto ciò che veramente interessa il popolo agropolese e non solo si è battuta si è battuta sempre anche se certe volte sembra che noi consiglieri non partecipiamo alla vita politica ma non è vero perché di queste cose ne ragioniamo quando facciamo le riunioni chiaro ma volevo solamente esprimere questo pensiero grazie consigliere passiamo al terzo punto all'ordine del giorno approvazione dei verbali della seduta del 26 novembre chi è favorevole chi è contrario chi si astiene Coppola ok allora Coppola Di Nardo Botticchio Abbate l'ha messo per l'immediata eseguibilità chi è favorevole contrario nessuno si astiene Coppola Di Nardo Abbate Botticchio il consiglio approva quarto punto all'ordine del giorno variazione bilancio di previsione armonizzata 2021-2023 articolo 175-3 decreto legislativo 267-2000 relazione il sindaco prego signor sindaco sì l'argomento è firmato dall'assessore modalità di passi ma come vi avevo detto non è potuto essere presente e quindi ricordo che rendi conto 2020 abbiamo costruito un accantonamento per fondo condensioso e passività di 850.000 euro allora vi ricordate quando approvamo il rendiconto fece un ottimo lavoro all'ufficio contenzioso dove si andò per la prima volta a ricostruire perisseguamente la storia di ogni causa conosciuta nel nostro ente andando a prevedere anche le eventualità di quelle che potevano essere l'andamento delle cause se positive quindi vittoriose se perdenti collegate ad esse avevamo anche immaginato un fondo per coprire eventuali passività che ne sarebbero derivate che certamente ne sarebbero derivate perché se ricordate insomma ne abbiamo già parlato in passato l'incarico legale veniva in qualche modo conferito agli avvocati con un piccolo acconto iniziale stiamo parlando anche del periodo ancora in lire e poi successivamente in euro con un acconto di 500.000 euro e poi una volta avviato questo percorso al termine del contenzioso quando la causa andava a terminare il legale portava sostanzialmente la parcella a seconda della tipologia della causa la parcella era diversa poteva essere eseguita con minimi con massimi comunque non era prevista sostanzialmente in bilancio la cifra e quindi il nostro compito è stato quello di dover proprio produrre e costruire un fondo per coprire queste eventualità in questo modo il lavoro ottimo fatto a loro ci ha consentito poi piano piano di affrontare le singole questioni dei singoli avvocati che pure erano stati nominati dal comune e l'ufficio le ha chiamate singolarmente per ricostruire tutte le vicende processuali una per una controllate una per una e poi vagliate e dove ci sono state le condizioni per la verità nella quasi totalità dei casi si è trovato un'intesa di carattere transattivo per dire sostanzialmente certo la causa non aveva una come dire un'impostazione iniziale in cui si dessero dei limiti però si è parlato con gli avvocati dicendo che neanche poteva essere la richiesta diciamo oltre quelle che oggi è le normali liquidazioni oggi abbiamo un regolamento che prevede in maniera chiara quelle che sono le cause per tutti i carri di giudizio escluso le cause personali quindi un regolamento abbastanza chiaro che ci consente quando facciamo un incarico legale di avere la previsione in bilancio che quindi non determini gli squilibri nel tempo tutto questo ragionamento poi ha portato quindi una serie di lavori e sostanzialmente oggi discutiamo di che cosa della nota che il funzionario responsabile la dottoressa Feniello ci scrive dicendo che si richiede un ulteriore prelievo da questo fondo condensioso per 152 mila euro per chiudere in via transattiva che diciamo quindi prevede un taglio diciamo delle richieste delle competenze oltre che una realizzazione delle stesse per l'avvocato Scudere l'avvocato Russo e l'avvocato Ballinda Corvino diciamo questa è la richiesta e in questa prima delibera noi andiamo soltanto a creare la posta di bilancio prelevandola dal fondo condensioso e mettendo la disposizione poi per poter singolarmente nelle prossime delibere affrontare la singola transazione per poterla finanziare quindi in questa delibera andiamo a creare prelevandola da questo fondo condensioso la posta necessaria e abbiamo ottenuto naturalmente legato alla delibera il parere favorevole del collegio di revisione grazie signor sindaco ci sono interventi prego consigliere abate allora presidente innanzitutto lei ha fatto le condoglianze all'assessore l'ambasione a nome del consiglio ma io vorrei avere il dovere di ripetergliere a lei tutta la famiglia e poi gli auguri a tutti coloro che per motivi di covid in questo momento sono assenti da quest'aula mi è sembrato di capire qualche assessore qualche consigliere quindi auguri di presto guarigione per quanto riguarda poi le due dichiarazioni iniziali del sindaco cioè quella relativa al pareggio della cassa beh direi presidente del consiglio che onestamente sorbirci una notizia positiva ma non documentata e capire il perché una volta si è avuto praticamente un pareggio di cassa quando la stessa soffriva di milioni di euro sarebbe importante per noi consiglio non ricevere solo la notizia ma esaminare dettagliare e discutere sulle motivazioni che hanno portato a queste eredità di cassa perché mi sembra più un'eredità di cassa che una reale esazione di quelli che erano arretrati di imu di tasi e di tante altre sofferenze di bilancio che abbiamo vissuto per anni quindi non è che lo metto in dubbio ma sono comunque scettico di questa notizia data così per quanto riguarda invece il castello ebbene io penso di essere stato uno di quei consiglieri che ha partecipato quindi alla volontà di acquisto quindi sono contento di questo finanziamento sono contento dei lavori a farsi se gli stessi potessero essere validamente valutati validamente valutati da tutti noi consiglieri comunali indipendentemente dall'aggiunta o da un esecutivo di progetto che noi non abbiamo mai esaminato perché a vedere il passato e a vedere che nel castello si rialzano i piani e non si scava quindi in un aspetto archeologico vedere che si fa il contrario di quello che normalmente dovrebbe essere fatto in un sito del genere ho forti dubbi anche sul progetto di riqualificazione quindi grazie della notizia ma scettico anche su questo per quanto attiene poi invece presidente l'argomento che stiamo discutendo a questo punto all'ordine del giorno allora io le dico ma lei lo dovrebbe già sapere penso che lo sappia che questa trasmissione di questa delibera l'ho avuta praticamente giorno 28 alle ore 11 e 23 vogliamo ritornare un po' nella regittimità dei nostri diritti indipendentemente dalle notizie positive vogliamo dare la notizia negativa che noi consiglieri dico di opposizione di minoranza perché voi di maggioranza vi comportate così come è stato testè anche affermato dal consigliere Marciano discutete delle cose le valutate ma noi le discutiamo quando ci arrivano come mai quindi io dovrei esaminare oggi questo aspetto di variazione di bilancio quando mi è stato consegnato solo due giorni fa e quando non è vero che poteva essere agli atti perché il parere collegio dei revisori è arrivato proprio la stessa mattina del 28 quindi pur se fosse stato agli atti comunque non era completo di quello che a noi consiglieri comunali doveva essere trasmesso per esaminare questa proposta di delibera attenderei prima da parte sua una risposta presidente carissimo consigliere Abate per le premesse che lei ha fatto relativamente alle comunicazioni che ha fatto il sindaco posso condividere con lei la stessa ragione che manifestava ma presumo che il pareggio di bilancio è stato fatto grazie alla cospigua somma che il governo centrale ha erogato al comune di Agropoli e poi il sindaco sarà lui poi a darci modo di chiarire della posizione per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno ehm sì è vero il il parere del divisore è arrivato in ritardo ma io ho avuto la responsabilità di metterla all'ordine del giorno la responsabilità di metterla all'ordine del giorno vi spiego meglio ci sono delle transazioni dove vi è un'opportunità da parte del comune di chiudere un condensioso ormai da anni che si porta avanti e allora io ho fatto una scelta ho parlato con il sindaco e l'assessore qualora non arrivasse in tempo il parere dei revisori ritiravo l'argomento visto che ci sta ritengo e chiedo al consiglio di valutare come sempre abbiamo fatto l'opportunità di votare una variazione che darà la possibilità di risolvere gli altri punti all'ordine del giorno allora visto che lei ha ritenuto opportuno e io invece non ritengo opportuno sopprimere i diritti dei consiglieri allora la ponga ai voti perché so già il risultato scondato che sarà io vorrò avere il piacere di votare contro a questa proposta che fa lei perché devo difendere la democrazia e le regole che devono essere applicate nei confronti di noi consiglieri comunali se vogliamo chiamarci consiglio comunale se poi vogliamo chiamarci praticamente diciamo maggioranza che porta a conoscenza della minoranza soltanto alcune notizie questa è una scelta che farete voi in questo momento in cui voterete condivido con lei e farò tale prego consigliere Botticchio prima di passare ai voti vabbè io mi associo a quello che dice il consigliere Abbate ma fatto delle regole forse lui ha fatto bene il collega Abbate di puntualizzare io invece voglio fare più un intervento politico io dal scorso consiglio adesso vedo solo variazione di bilancio e delibere cioè come si dice contenzioso con avvocati di forse di 15 anni 18 però guarda caso a 6 mesi dalle elezioni sembrerebbe che devono essere tutti liquidati invece io la gestione non la amo così la gestione va fatta sistematica con regole e puntuale arrivare sotto sotto e poi dice eh mo paghiamo a tutti quanti perché il covid parliamoci che il covid vi ha salvato è inutile dire il covid ha portato disastri agli imprenditori alle imprese alle imprese commerciali soprattutto e poi ha portato benessere un po' di salute un po' di ringorati diciamo da questa da questo virus perché tante casse eh viaggiano asciutte da tempo da tempo ma non per altro perché qua nessuno è cattivo è la cattiva gestione cattiva gestione porta a questi risultati e la cattiva gestione porta a pagare parcelle tutte a 6 mesi dall'elezione mi dispiace che manca il vice sindaco assessore al condensioso che poi vedo noto dalle delibere che l'assessore al condensioso non le vota quasi mai non c'è mai la firma e questo anche mi suona un po' strano quindi voi politicamente le gestite malissime poi quando riguarda la contabilità io penso che i numeri combaciano sempre vedi c'è ci sta il benestare dei revisori i revisori non sono presenti qua stamattina però se un revisore firma e dice va tutto bene per me va tutto male perché pagare tanti centinaia di migliaia centinaia di euro al condensioso nell'ultimi sei mesi dalle elezioni me la dice tutta e me la dice lunga e abbandonare poi la città mo ci vuole strade con buche c'è un dissesto stradale pauroso e quindi i conti non tornano tornano sulle carte tornano su quello che voi volete perché là combaciano io all'inizio qualcosa sai la studiavo poi ho capito perché comunque tutto si intreccia si incontra tutto e allora io dico solo alla città di avere pazienza noi siamo qua siamo vigili controlleremo dove ovviamente una povera opposizione può arrivare mi meraviglia di questa maggioranza che non riesce ad attivarsi cioè guarda è una maggioranza che soprassiede su tutto è una cosa paurosa quindi io ovviamente voterò contro questa variazione grazie consigliere allora pongo ai voti la trattabilità del punto 4 all'ordine del giorno chi è favorevole chi è contrario favorevole abbate botticchio allora passiamo adesso all'approvazione della proposta così che posta all'ordine del giorno sono sempre il punto 4 chi è favorevole alla proposta favorevole chi è contrario abbate botticchio per l'immediata eseguibilità chi è favorevole favorevole contrario abbate botticchio il consiglio approva quinto punto all'ordine del giorno riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera E decreto legislativo 267 2000 per il pagamento somme all'avvocato Antonio Scuderi per spettanze professionali maturate e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocinio legale relazione il sindaco allora guardiamo insieme i dettagli perché doveva relazionare la sessione mutare i passi però allora dunque si tratta di diversi incarichi legali come vi abbiamo detto spiegato in passato i primi insomma cominciano molti anni fa forse la prima causa era l'avvocato Scuderi a difesa del compiando Mariano Patella la prima in assoluto come contenzioso che in qualche modo è rimasto ancora aperto e l'ultima credo riguardi l'anno 2017 se non sbaglio che è una difesa davanti al Tar col consorzio campagna stabile sostanzialmente come dicevamo precedentemente ogni singola vicenda processuale è stata analizzata dall'ufficio contenzioso che ha fatto tutta una serie di valutazioni di come dire riduzione delle richieste da parte degli avvocati in alcuni casi la riduzione va fino al 50% in altri casi al 30% quindi come dire l'accordo sostanzialmente per gli avvocati che hanno accettato la transazione è abbastanza doloroso nel senso che non è che si è fatto da parte loro a cuore leggero perché hanno dovuto rinunciare a cifre abbastanza importanti e nel caso dell'avvocato Scuderi mi pare che poi la realizzazione se non sbaglio sia pluriennale mi pare fino a sei anni se non sbaglio cinque o sei anni la realizzazione della cifra che complessivamente veniva a essere impegnata quindi penso che il lavoro fatto dall'ufficio è assolutamente accettabile perché io credo che se fossimo andati a giudizio su tutte queste questioni non avremmo ottenuto da un punto di vista finanziario né dell'idealizzazione le condizioni che stiamo ottenendo oggi perché è chiaro che poi si sarebbe dovuto discutere su cause per esempio nel caso dell'avvocato Scuderi si parla di cause importanti cifre molto rilevanti in ballo un milione di euro in alcuni casi discussione al tar e quindi se avessimo voluto valutare fino in fondo il valore della causa stessa io credo che non avremmo ottenuto certamente condizioni così favorevoli quindi penso che il lavoro fatto all'ufficio e dall'assessore al bilancio in collaborazione con anche la sola al contenzioso sia stato un lavoro fatto bene e quindi credo che le condizioni come diceva pure bene il presidente del consiglio apriva sono ottimali e ci consentono di poter votare la transazione veramente ritenendo di aver fatto un accordo molto vantaggioso per l'ente se ci sono richiesti di dettagli le guardiamo insieme sulle singole questioni il fascicolo è molto articolato però siamo qui eventualmente per discuterne ci sono interventi prego consigliere Abate allora sindaco a mio parere nel corso di questo quinquennio voi della maggioranza intendendo dire in modo collegiale avete combinato tante di quelle cose brutte che ormai non ho perso il conto il numero ma quella che state combinando nell'ultimo consiglio comunale ed in questo è inimmaginabile era inimmaginabile eppure è diventata una realtà ovviamente vorrei chiarire una volta e per sempre così come ho fatto lo scorso consiglio comunale allegando la mia dichiarazione che quando parlo di cose brutte non intendo parlare assolutamente del pagamento delle legittime competenze ai professionisti ai quali chiedo scusa io addirittura a nome dell'ente per il ritardo con cui vengono pagati no non intendo riferirmi al pagamento intendo riferirmi ai comportamenti e alle sfumature che questa maggioranza ha adottato nel corso degli anni e applicato nel corso degli anni ed oggi per raggirare una realtà una realtà che adesso cercherò di spiegare cioè quando parlo quindi di cose brutte parlo di sfumature che accompagnano il riconoscimento dei debiti fuori bilanci di cui alla lettera E dell'articolo 1 del comma 1 dell'articolo 194 prendo ad esempio solo ad esempio ma vale per tutte le altre proposte che eseguiranno questa che in discussione adesso questa delibera che riguarda queste competenze allora così come ha detto lei sindaco sulla scorta quindi della documentazione che a noi è arrivata io piglio in esame per esempio una delle vertenze consorzio campare stabile la nomina risale al 2017 cioè quattro anni fa non è che stiamo parlando degli albori di Cristo l'impegno di spesa nel 2017 vi fu la sentenza uscì addirittura perché era quindi discussione a tardi 23 maggio 2017 eppure arriva sei mesi prima delle elezioni del 2022 andiamo a De Francesco De Stefano Francesco la delibera addirittura praticamente era la richiesta del 2021 però il preventivo era del 2018 l'avvocato vi aveva comunicato quel preventivo voi avevate fatto pure l'impegno praticamente di spese quindi arriva oggi accumulata con le altre Cantalupo Francesca e Angelo in carico del 2015 confermato preventivo del 2018 causa ultimata molto prima di oggi molto prima di oggi invece arriva oggi Regione Campania nell'anno del 2017 idem vi era il preventivo completo Patella Mariano come ha detto giustamente lei il processo si è concluso il 2015 tant'è che su queste valutazioni la responsabile che ha richiamato lei ha fatto una nota ben precisa in cui ha fatto capire e io qua non ce l'ho detto in questo momento pur se ce l'ho non intendo esaminarla per questioni di tempo pure dice ha fatto sta richiesta però quindi scendeva nel merito cosa che io non devo scendere perché io devo solo e soltanto sperare che i professionisti vengano legittimamente pagati ma non tirati per le palle così come ha detto lei grande scondo non è una giustifica positiva è una vergogna per l'ente perché due sono i casi se è grande scondo vuol dire che l'ente sta speculando sulle capacità dei liberi professionisti se invece non è grande scondo perché il professionista caso mai ma io non lo penso ha maggiorato di no di no molto la parcella sarebbe una gravità di accusa nei confronti del professionista alcune di queste pagamenti quindi avevano la legittima copertura se poi si era dilatata la copertura i principi delle norme giusti contabili non prevedono che venga riconosciuto come debito fuori bilancio tant'è che alcune corte dei conti a specie della campagna si è espressa in modo esattamente conforme a quello che sto per dire io quindi non andava riconosciuto come debito ma era una previsione che doveva venire in bilancio se si era dilatata quella soma per cui c'era stato impegno di spesa quindi il debito che arriva ai sensi della comma 1 articolo 194 lettera E è dovuto solo e soltanto praticamente diciamo il debito in generale non lettera E a poi finale ma di eventi imprevedibili imprevisti invece qua non stiamo parlando di eventi imprevedibili ed imprevisti stiamo parlando praticamente della costrizione nei confronti dei professionisti di dire vabbè poi avete continuato a dare gli incarichi e questo professionista sai mai altri professionisti che non avete pagato quindi non ti preoccupare vai avanti vai avanti poi alla fine faremo un calderone è vergognoso da parte di un'amministrazione comunale comportarsi così io come consigliere comunale non posso non cogliere questa vergogna a carico della mia amministrazione comunale quindi quando ho parlato di queste sfumature che incominciano ad essere a totale carico vostro e non del professionista che viene pagato mi viene un atroce dubbio sulla vostra capacità di gestione voi invece l'avete fatta passare così adesso come per dire abbiamo ottenuto un grande successo voleva 100 gli diamo 50 voleva 30 gli diamo 15 vergogna poi un'altra cosa la sostanziale motivazione di questi ritardi non c'è in quello che ha detto lei non c'è una sostanziale motivazione che giustificherebbe praticamente il ritardo e quindi la convenzione da stipulare con il professionista per riconoscere il debito non l'avete come vi ho detto prima le date come vi ho portato le date anche perché nella stessa delibera si legge e qui mi viene da ridere premesso che il professionista ha ripetutamente sollecitato la liquidazione delle spettanze professionali ma questo è vergognoso cioè dare atto indelibere che io come premesse dico premesse che chi mi ha chiesto i soldi poi immagino tirato tirato e poi l'ho portato ad oggi ma no no assolutamente no non è un comportamento corretto dell'amministrazione comunale quindi mi sfiora il dubbio ma ci sta trasporto di tempo a sei mesi prima delle elezioni una captazio benevolenza evidentemente cioè siamo prossimi alle elezioni dobbiamo captare la benevolenza di tante persone per cui riconosciamo pure questi debiti che avremmo e in più ci impegniamo a riconoscere per una realizzazione quinquennale di sei anni cioè impegniamo anche per il futuro signori io ho detto quello che dovevo dire i professionisti si hanno voluto capire capiscono se no altrimenti potranno interpretare come vogliono io sono a favore del pagamento delle legittime competenze di ogni professionista che lavora anche perché faccio lo stesso mestiere sono contro questo sistema di amministrazione che tira i professionisti per le palle avvalendosi poi e dicendo in consiglio comunale abbiamo ottenuto un grandissimo sconto no altrimenti ci sarebbe praticamente diciamo da dire molto ma molto di più quindi di conseguenza per queste motivazioni e per il fatto che nella delibera non c'è mai scritta la vera motivazione che ha condotto a ritardo io non mi esprimo più di tanto cioè mi estengo dalle votazioni che seguiranno da questa in poi ma le motivazioni di critica nei vostri confronti restano tutte tant'è che vi consegno pure il mio intervento per iscritto da inserire poi a Berbano grazie consigliere prego consigliere Botticchio ovviamente effettivamente questo condensioso io tempo fa feci una proposta un'interrogazione di instaurare di stabilire un'avvocatura comunale perché io penso che anni fa aver fatto questo passo oggi ma anche per stima ai professionisti ma mica un professionista può stare 5, 6, 10, 12 anni dopo aver lavorato perché io penso che ha dato una prestazione professionale essere trattato come il mercato delle vacche diceva boh passati tanti anni chiudiamo a 6 mesi prima dalle elezioni ti devo dare tot ti do tot quindi la gestione è diventato i mercatini forse avete tolto il mercato al centro l'avete portato qua avete bisogno di un altro mercato e questo è il mercato quindi io nel rispetto delle figure professionali ovviamente io mi astengo perché per me andavano pagati prima se ci stanno transazioni da fare in prossimità del lavoro svolto dall'avvocato va pagato non avete mai soldi mai soldi sempre in giarmi è il debito fuori bilancio e ho avuto quel contributo e sì ma voi con tutte queste cose che fate questa cattiva gesta a parte che avete dissanguato la città che spoglia dei servizi perché la città ricordatevi una cosa è spogliata dei servizi e spogliate anche le figure professionali perché un avvocato che ci ha lavorato su una causa non può aspettare 5-6 anni quindi io mi astengo dal voto perché ovviamente sono decisioni che prendete voi e non mi ci metto in mezzo mi astengo mi astengo per rispetto a queste figure maltrattate arrunzate come si dice però quelle se le elezioni le avrebbero fatte ogni anno venivate pagati subito ogni 5 anni 6 mesi prima dall'elezione vabbè ho detto tutto perché io faccio la sintesi voi ok grazie consigliere se non ci sono altri interventi passiamo ai voti chi è favorevole alla proposta un attimo solo io mi assendo perché c'è il rapporto di parentela va bene consigliere abbandono l'aula ok allora ripetiamo la votazione chi è favorevole alla proposta chi si astiene botticchio abbate contrario nessuno per l'immediata eseguibilità chi è favorevole astiene abbate botticchio contrario nessuno il consiglio approva sesto punto all'ordine del giorno riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex articolo cento e novantaquattro comma uno lettera e decreto legislativo duecentosessantasette duemila per il pagamento somme agli eredi avvocato russo pasquale per spettanze professionali maturate e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocino illegale relaziona il sindaco ma penso che le questioni le abbiamo già affrontate la logica utilizzata l'abbiamo già raccontata è la stessa diciamo utilizzata per i passati riconoscimenti per le transazioni degli altri avvocati così anche nel caso degli eredi dell'avvocato russo pasquale per questo motivo ritengo che si possa passare direttamente al voto a meno che non ci siano delle richieste di chiarimento ulteriore ci sono interventi prego consigliere botticchio penso credo che si parli della buonanima di pasquale russo l'avvocato mio amico abbiamo fatto un viaggio insieme in america persona squisita è da anni mi sembra che sono tre anni che è deceduto quindi gli eredi voglio dire gli eredi cioè questa è una causa almeno di setto otto anni e vengono pagati gli eredi ma questi sono gli atti vergognosi questi sono perché magari queste persone forse nei tempi perché chi lavora deve essere pagato non a sei mesi dalle elezioni perché le elezioni non sono ogni anno sono ogni cinque anni e quindi io qua ho voluto dire una parola prima per per l'amico avvocato pasquale russo che non c'è più mi fa piacere che vengono pagati la figlia ahimè e mi duele per le vostre procedure scandalose perché questo è veramente uno scandalo grazie consigliere se non ci sono altri interventi passiamo al voto chi è favorevole favorevole chi si astiene botticchio contrari nessuno per l'immediata eseguibilità e chi è favorevole favorevole chi si astiene botticchio contrari nessuno il consiglio approva settimo punto all'ordine del giorno riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex articolo 194 comma 1 lettera e decreto legislativo 267 2000 per il pagamento somme all'avvocato Corvino Marilinda per spettanze professionali maturate e approvazione contestuale della transazione stragiudiziale derivante dall'acquisizione del servizio di patrocino illegale relaziona il signor sindaco prego si si la logica come abbiamo detto è sempre la stessa in questo caso solo la realizzazione non è diciamo come nei casi presenti di 5 anni ma di 2 9.397 il primo anno e 1.570 il secondo 2022 e 2024 quindi la cifra è di 11.373 se ne chiede l'approvazione ci sono interventi in merito passiamo alla votazione chi è favorevole alla proposta favorevole chi si astiene contrari nessuno per l'immediato eseguibilità chi è favorevole favorevole chi si astiene botticchio contrari nessuno il consiglio approva ottavo punto e ultimo dell'ordine del giorno ricognizione periodica della delle partecipazioni pubbliche articolo 20 comma 1 e seguenti decreto legislativo 175 2016 relazione il signor sindaco sì questo è un atto obbligato che il consiglio comunale deve fare entro il 312 la normativa impone diciamo minacciando sanzioni se non si fa entro fine anno è la ricognizione periodica che si fa delle partecipazioni pubbliche nelle società partecipate non nella delibera la ricognizione porta a raggiungere lo stesso ragionamento fatto nelle altre volte cioè nella sostanziale conferma della situazione attuale diciamo di nessun cambiamento rispetto al passato né le partecipazioni né alle società le ricordiamo sono l'azienda speciale come dicevo servizi per una quota di partecipazione al 97% acquedotti del calore lucano 33% cst sistemi sud 27% magna grado sviluppo 15% casi salernitane impianti 590 trasporti paletti salernitane 290 cilengio del razzo 056 abbiamo ancora la partecipazione del corriso 949 ente di campano 036 ente d'ambito per il servizio della gestione internazio di rifiuti 193 come sapete alcune di queste partecipazioni sono obbligate per legge ed in particolare la società di trasporti malittimi salernitana è una società in liquidazione mi pare che lo schema sia abbastanza chiaro ma ripeto ne abbiamo altre volte discusso in consiglio diciamo arrivando alle stesse conclusioni quindi se ne chiede l'approvazione ci sono interventi merito prego consigliere Bottini no vabbè perché la gente poi le partecipate mi sembra che sono 10 addirittura cioè tipo per esempio ne piglio una a casa dai perché per sapere ecco cosa serve per esempio la cilento rigenerazio io ho partecipato anche a un evento qua piacevole però vorrei capire il popolo non io cioè io porto quello che mi chiedo ma che significa qual è il beneficio voglio capire ecco è una domanda così a sorteggio è come la fa il popolo di Agropoli un agropolese di cultura media che si fa una domanda così dice che serve perché è una partecipata il cilento rigenerazio me lo dica la partecipazione non so se il microfono funziona la partecipazione del cilento rigenerazio è dello 0,56% ed è una partecipazione che riteniamo vada mantenuta è una ecco quindi si era staccato nessuno me lo diceva allora stiamo dicendo i gruppi di azione locale sono delle organizzazioni di comuni che si mettono insieme per partecipare e coordinare le attività del territorio nella maniera migliore possibile il comunale di Agropoli è presente come tanti altri comuni del cilento si lavora per acquisire finanziamenti strutturali al fine di poterli distribuire non singolarmente nei singoli comuni ma avere dei progetti organizzati che in qualche modo portano avanti una logica di territorio non di singoli enti quindi diciamo sono previsti nelle leggi è possibile costituirli proprio perché la legge lo consente e diciamo sono destinati i finanziamenti sia per il mondo pubblico che nel mondo privato per questo motivo diciamo partecipiamo così come tanti altri comuni con l'obiettivo insomma di ottenere dei vantaggi per il territorio questo è non ci sono atteso la partecipazione molto minima 0,56% come vedete spese particolari ma l'obiettivo è soltanto quello di coordinare delle attività tra gli enti per portare avanti degli obiettivi comuni del territorio nel nostro caso del Cilento questo è il motivo Sindaco lei è stato esaustivo nella risposta però io qua vedo CST Sistemi Sud che è un supporto informale io vedo tante ne voglio chiamare Carrozzone perché può darsi che danno il loro contributo ma dico non è che esageriamo nel creare tutti questi tentacoli no intorno a questo comune quest'ente che magari poi è carente nel dare le risposte alla città la città quella vivibile quella turistica quella che ha bisogno di servizi perché la mia paura che creare tutte queste associazioni per prendere finanziamenti regionali provinciali nazionali poi trascuriamo vedi trascuriamo il bene più importante che sono secondo me la sanità il turismo e il commercio sono tre figure importanti non so se grazie a queste associazioni queste non lo so sì il 0,57% il 3% il 5% però io vedo una dispersione di forze di economia anche se è poca e non ci concentriamo sulla città questo io noto leggo queste carte poi mi chiedo da sola dico ma non è che è una dispersione cioè ci localizziamo sulle persone su chi magari si mette una divisa e dice io ho questa associazione ho questa cosa e poi magari lasciamo abbandoniamo il grosso che sono le scuole che è la viabilità ecco io incentrerei le mie forze economiche e fisiche su meno su queste cose io qualcuna forse se non non dà non lo so io tutelo sempre i posti di lavoro perché io dico sempre quando viene dato un posto di lavoro un giovane tuteliamolo però non sprechiamo risorse perché i risorse servono per far ripartire questa città per dare ossigeno a un popolo diciamo soffocato anche dal covid grazie grazie a lei prego consigliere Vesco allora sindaco naturalmente so che è assente l'assessore mutali passi per problemi che abbiamo già discusso però do come è assente l'autorista lambasone per il discorso di quello che ho avuto come lutto quindi a cui mi associo anche io come per le contoglianze unitamente alla consiglia bottiglio per quello che hanno avuto in settimana però io volevo evidenziare una cosa è la prima volta che mi trovo caro sindaco in un consiglio comunale con l'assenza totale degli assessori è un dato politico importante conoscere perché io credo che gli assessori hanno hanno l'obbligo anche se non partecipano al voto di sentire i consiglieri c'è un rapporto diretto che deve esserci tra consiglio comunale ed assessore ed assessore quindi vedere l'assenza totale degli assessori in questo consiglio comunale è una delle prime volte che mi è capitato in tanti anni che faccio che faccio politica l'assenza totale detto questo volevo entrare poi nell'ordine del giorno di oggi la ricognizione delle società partecipate non è soltanto un fatto parliamoci chiaramente non è soltanto un fatto burocratico ma è un dato un dato perché da tenere presente perché perché noi dobbiamo sempre avere la conoscenza di qual è l'utilità delle società partecipate e per le quali il comune di Agropoli partecipando ha degli obiettivi a spiegare dei soldi quindi mi aspettavo stamattina non so se l'aveva fatto l'assessore ma non è allegato una relazione specifica per ogni società e le ragioni per le quali è giusto che il comune di Agropoli potesse partecipare e con la quota da esso indicato quindi noi dobbiamo soltanto fermarci e limitarci a dire noi prendiamo atto di dove partecipiamo ma dobbiamo anche dire al Comunale ai cittadini la ragione e l'interesse per poter partecipare a questa società quindi io quindi non c'è una relazione specifica su ogni società e qual è l'utilità della partecipazione stessa e questo lo prendo come dato di fatto oggettivo l'unica cosa che mi è saltato in mente nel verificare tutte le società partecipate che tra le note io leggo CST Sistemi Sud di SRL la partecipazione non può essere mantenuta quindi c'è una nota specifica che la società non può essere mantenuta e ho letto la relazione dei corti dei conti della relazione del 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 sostanzialmente non dicono niente dicono noi non siamo obbligati a dare un parere economico su queste partecipazioni per cui non lo diamo fanno soltanto una relazione così però era necessario questo è quello che io chiedo è necessario e la prossima volta magari dobbiamo farlo ma per noi per i cittadini per tutti verificare e razionalizzare qualsiasi di queste società e dare ai cittadini la ragione di perché partecipiamo e quale interesse nostro ha la partecipazione stessa ma non lo dico io lo dico però la normativa lo dice grazie grazie a lei prego signor sindaco innanzitutto per quel che riguarda la questione degli assessori non è un problema politico tutt'altro l'assessore D'Arienzo ha un intervento importante per una questione di una minore che sta seguendo l'assessore Benevento per motivi di salute l'assessore Santusus per motivi di salute l'assessore muta i passi diciamo per motivi di prudenza in quanto dovrebbe essere in una catena di contatti e quindi non è venuto al consiglio per questo motivo l'assessore Lampasona sapete già che c'è un problema di lutto familiare quindi mi trovo a essere diciamo solo fisicamente ma solo fisicamente quindi su questo la posso tranquillizzare la posso rassicurare invece sulla questione io posso non ho nessun problema se il consiglio vuole approfondire una singola questione o tutte le questioni delle società partecipate ne possiamo ragionare e affrontare io non ho certamente la non ho studiato in maniera approfondita le carte però avendo vissuto la vita di questa società quale amministratore di questo comune ormai da 15 anni conosco vita morte miracoli utilità di tutte le società quindi non ho nessun problema se volete a raccontarvi la necessità di ogni singolo ogni singola presenza di questo comune in una società lei ha fatto il risultato dalla CST Sistemi Sud CST Sistemi Sud è una società dove c'è scritto effettivamente va a a essere eliminata la partecipazione ma non perché la CST Sistemi Sud fosse una società non virtuosa anzi una società che ha sempre chiuso i bilanci positivamente non è mai stata un carrozzone è stata sempre funzionale ai comuni ma la legge quando ha fatto una valutazione complessiva sulla società in generale non ha considerato come parametri l'efficienza della stessa ma ha considerato come parametri il volume d'affari nel caso del volume d'affari della CST Sistemi Sud doveva essere un volume d'affari su un milione al milione di euro cosa che non è nel caso della CST Sistemi Sud ma il volume d'affari è inferiore a questa cifra e per questo motivo le indicazioni normative sono della soppressione in questo momento la CST Sistemi Sud ha dei progetti in corso che si stanno sviluppando la legge consente la proroga dell'utilizzo fino al 31-12-2022 e dato che ci sono dei progetti effettivamente in corso e svolge servizi per il nostro ente a prezzi e condizioni assolutamente favorevoli continuiamo ad approfittarne perché è vantaggioso per l'ente per quel che riguarda il prossimo anno se la legge dovesse proseguire questa indicazione del taglio delle stesse al di sotto di un certo punto da fare noi naturalmente così come indicato nella proposta anche noi lasceremo la società che andrà allo scioglimento se invece la società dovesse in qualche modo aumentare il proprio progetto affare superando il milione poi valuteremo se conservare oppure no la partecipazione rispetto alla Sistemi Sud una considerazione nella regione Campania sono pochi i cieli servizi titoloriali come la Sistemi Sud sono pochissime se non sbaglio sono tre o quattro società della stessa tipologia e insieme a questo è una società che unisce comuni medi e comuni piccoli prima c'era anche il Cundisaleno comune grande ma forse c'era troppo lo sculibrio e quindi in qualche modo la sua particolare struttura il suo statuto è così come organizzato è nelle condizioni di essere favorita in bandi che riguardano l'informatizzazione degli enti per questo motivo fu creata a suo tempo per questo motivo fu implementato il nostro rapporto con la società proprio per ottenere dei finanziamenti come comuni l'ultimo finanziamento quello del Simel 2 ci ha consentito con la Consiglio del Comune di Agropoli di utilizzare i suoi programmi gratuitamente che non abbiamo dovuto acquisire e oggi la maggioranza dei programmi e dei software che abbiamo nel Comune di Agropoli sono proprio derivano da Maggioli e da quel progetto CST Sistemi Sud Simel 2 quindi la partecipazione di una società ci ha consentito quindi ha consentito dei vantaggi da parte dell'ente e ha consentito anche l'utilizzo di finanziamenti regionali proprio per aiutare anche il personale a imparare i nuovi programmi perché uno dei problemi più grandi che hanno le pubbliche amministrazioni è l'utilizzo delle nuove tecnologie inserite in un contesto magari di dipendenti comunali molti dei quali magari sono avanti nell'età e che quindi hanno difficoltà ad apprendere nuove tecnologie quindi in ogni progetto di informatizzazione è collegato da parte diciamo dei finanziamenti una parte che in qualche modo aiuta i dipendenti comunali ad acquisire con delle partecipazioni di supporto agli uffici che sostanzialmente impari i nuovi programmi ecco perché fino ad ora è stata utile la presenza in questa società ve lo cerco di spiegare nel modo più semplice possibile io penso che atteso che la situazione credo ci consenta ancora di partecipare a progetti in questo ultimo anno e atteso che si parla moltissimo come sapete nei fondi che arrivano dalla comunità europea su progetti di informatizzazione importanti io penso che conviene realmente conservare questa partecipazione almeno per un altro anno e poi verificare diciamo quali sono le condizioni alla fine di questa ripeto atteso che la società non è un carrozzone ma che ha chiuso sempre i bilanci con dei risultati positivi in attivo quindi non ha portato mai debiti e quindi da dove ripianare per quella della comunità europea questa è la CST poi se volete discutere degli altri e delle altre società sono a completa vostra disposizione ce ne sono alcune presenti su un obbligatore per legge l'ente d'ambito per i servizi di gestione dei rifiuti è obbligatorio l'ente dico cabanio lo stesso il corisa era obbligo per legge ma siamo in una fase di liquidazione quindi là sta terminando la partecipazione Cilento di generazione abbiamo parlato trasporto marittima serenitana la partecipazione era minima ma qui la società è in liquidazione l'asis anche qui va mantenuta perché sappiamo che l'asis gestisce le reti e i nostri impianti quindi per questo motivo va mantenuta la Magna Grecia in questo momento ha avuto un finanziamento importante che va realizzato e quindi per questo motivo va mantenuto ma anche qui non ci sono costi per alcuni di Agropoli della CST Sistemi Sud ne abbiamo parlato dell'acquedotto del Coroia Lucano ne possiamo parlare se volete sapete la vecchia storia del consorzio abbiamo delle fonti idriche importanti del nostro Cilento che alimentano a prescindere diciamo dai due grandi gestori CONZAC e ASIS che gestiscono la provincia di Salerno gestiscono una serie di piccoli comuni e c'è una provvista in termini di acqua anche nei nostri confronti stiamo parlando di qualcosa che va in donna 10-12 litri dal secondo rispetto ai più di 100 litri dal secondo che servono per alimentare la città di Agropoli qui si è discusso molte volte sulla partecipazione o no nel consorzio attualmente abbiamo in questo momento anche il direttore che è stato scelto nelle file dei dipendenti del Cilento di Agropoli in genere Costino Sica che attualmente fa il direttore tecnico dell'Acquedotti Carlo Lucano e la società come eventualmente lui ci potrà se ritenete opportuno relazionare sta qua l'ingegnere Sica proprio casualmente è una società anche questa che è attiva ha una serie di dipendenti molto capaci di intervenire tecnici di buon livello ha una struttura autosufficiente che è equilibrata nei costi che interviene per i guasti che riguardano questa struttura allora diciamo quella che è la mia idea anche qui è una società ripeto che non porta passività al comune che ha un'utilità che porta al comune 12 litri dal secondo alimenta le zone di campanina fondi solo una parte della nostra città ma credo che vada mantenuto in un progetto più ampio di ristrutturazione e organizzazione delle fondi idriche voi sapete che nel tempo andremo piano piano nella riduzione della capacità di capotazione dell'acqua più passerà il tempo più naturalmente le esercità saranno difficili più le raccolte saranno difficili quindi avere un'opzione 2 oltre a quella dell'Asis e quindi un canale aperto con un'altra società che in qualche modo ci può implementare ci può aiutare in questo campo idrico io credo sia assolutamente necessario anzi si deve cogliere l'occasione proprio dei fondi strutturali che stanno arrivando per rafforzare migliorare la rete perché poi l'acqua diciamo che noi raccogliamo nei comuni dell'Alto Cilento e del Basso Cilento insomma dove andiamo ad accappare l'acqua può essere utilizzata di più e in maniera migliore si deve secondo me lavorare in questa logica anche ripensando ai congetti della condotta attuale insomma collegarci ad altri luoghi dove prendere acqua perché ritengo sia assolutamente necessario implementare la risorsa idrica quindi vi ho citato tutte le società in cui partecipiamo ripeto alcune sono obbligatorie altre rappresentano una necessità o un'occasione per il Comune di Agropoli quindi per questo ritengo che la relazione diciamo fatta così come è stata impostata sia assolutamente da prendere in considerazione quindi vi richiedo l'approvazione atteso ripeto che se avete necessità siamo qui eventualmente a relazionare sulle singole questioni sindaco io prendo atto di quello che era io quello che proprio chiedevo prima era proprio una relazione specifica su tutte le società tenuto anche conto che sono società in cui c'è una partecipazione del Comune veramente molto bassa penso a un 0,56% 2,90% io avevo detto che cst sistemi sud perché è la stessa relazione che ci dice la partecipazione può essere mantenuta ecco ho sollevato questa questione non nello specifico c'è il suo ho detto il stesso Comune che non ha fatto una relazione sulle società che andava fatta e allegata e portata a questo Consiglio Comunale ho notato questa discrezia rispetto alle altre società e ne ho parlato per cui non avendo avuto la possibilità concreta di verificare per ogni società quell'interesse pubblico io annuncio il mio voto di astensione grazie prego consigliere Botticchio Sistemi Sud la partecipazione è il 27% io ci sono dei lavoratori qua perché io chiedo dice no io lavoro con la Sistemi Sud allora scrivere qua la partecipazione non può essere mantenuta poi magari forse si protrae per un anno però un lavoratore che sorti avrà perché sono persone assunte qua con la Sistemi Sud che mi sembra che dà supporto informato allora il mio pensiero va a questi lavoratori io conosco lavoratori qua dentro da 10-12 anni che non hanno avuto mai possibilità di essere inquadrati in modo diverso di insomma di raggiungere un obiettivo diverso per una maggior sicurezza economica loro a maggior ragione che siamo in fase emergenziale Covid quindi quello mi chiedo scrivere così la partecipazione non può essere mantenuta ma ci sono tanti lavoratori che danno un contributo al comune allora il mio pensiero va a loro ovviamente i conti si fanno uno si siede ci sono i commercialisti però poi all'atto pratico c'è gente c'è gente che è in difesa e che potrebbe averne ripercussioni questo dico chiedo spiegazione al sindaco grazie grazie che venga vabbè mi sono impegnato a non fare polemiche quindi voglio soltanto dire al momento come vi ho detto il progetto CST ha un termine al 312 2022 ritengo che questo possa essere superato ma questo non lo posso come dire dire con certezza perché comunque l'andamento normativo non è chiaro e rispetto invece a coloro che hanno lavorato nel CST Sistemi Sud ora sono pochissimi nel Comune di Agropoli dipendenti del Comune di Agropoli sono molto molto pochi credo in questo momento non ce ne siano proprio nel Comune di Agropoli non ricordo precisione ma al momento non ce ne siano dipendenti del CST nel Comune di Agropoli ce ne sono state in passato oggi credo di no che non ce ne sono ma in ogni caso chi è passato per la società del CST Sistemi Sud di giovani che hanno lavorato nella CST Sistemi Sud hanno avuto una grande occasione quella di formarsi perché penso che oggi un giovane la prima opportunità che bisogna dare è quella di cominciare un percorso formativo nel caso della Sistemi Sud è stato anche retribuito quindi chi ha lavorato nella CST Sistemi Sud per un anno due tre cinque ha fatto un percorso in un mondo quello dell'informatizzazione degli enti che è un mondo diciamo che ha una sua floridezza economica perché sono tante le società che hanno necessità di implementare i rapporti con i comuni che sono come sapete storicamente carenti di personale e quindi molto spesso società private che lavorano nel mondo dell'informatica anche collegate ai comuni hanno diciamo un contesto economico florido e quindi le persone che hanno lavorato nella CST hanno comunque avuto l'opportunità di avere una prima occasione di qualificarsi e di migliorare le proprie condizioni di lavoro rispetto alle proprie offerte che potevano dare al mondo del lavoro quindi ora c'è qualcuno diciamo che dalla CST Sistemi Sud è transitato per esempio in altre società pubbliche qualcuno è transitato in altre società private ma ognuno di loro che ha lavorato nella CST Sistemi Sud ha avuto comunque una bella occasione da potersi giocare quindi ora non dobbiamo pensare soltanto alla società pubblica come come dire occasione di entrare per essere stabilizzati nel tempo ma dobbiamo guardare anche queste occasioni come stage formativi per i giovani che imparano un lavoro importante e che poi in quel mondo del lavoro possono rimanere quindi guardiamola sempre secondo me con un aspetto positivo e credo che a tanti giovani si era data occasione e possibilità di rimanere in questo mondo e avere occasioni importanti ci sono delle persone che lavorano nella cst ancora sono qua e c'è proprio un figlio di un assessore che è proprio c'ha l'ingaggio con la cst preoccupati perché sembrerebbe che a fine dicembre finisce il rapporto con la cst ma non solo il figlio di un assessore chi è è confusa allora ci sta un figlio dell'assessore non risulta che mi chiamano che hanno paura che si chiude il rapporto quindi il figlio dell'assessore ha chiamato a lei sì 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 consigliere faccia le sue verifiche ci sono cose che succedono però voglio dire non risulta consigliere hanno paura che non vengono più rinnovati non risulta che i figli di un assessore lavorano per il cst però mi faccio a parlare sindaco ma non risulta sta dicendo un errore la voglio correggere ho paura che non va rinnovato la voglio correggere la voglio correggere allora io ci tengo ai lavoratori dato che io ci tengo ai lavoratori allora cerchiamo di veramente di stabilizzare queste persone perché sono padri di famiglia e mamme di famiglia grazie grazie a lei se non ci sono altri interventi chi è favorevole alla proposta chi è contrario abbate botticchio chi si astiene pesca per l'immediata eseguibilità pure coppola pure coppola coppola si astiene ok per l'immediata eseguibilità chi è favorevole chi è contrario abbate botticchio chi si astiene pesca e coppola bene gli argomenti si concludono prima di farvi gli auguri io faccio una comunicazione personale consigliere botticchio allora segretario lei sei pente all'ordine del giorno io concludo gli argomenti in qualità di presidente del consiglio comunale e a titolo personale faccio una comunicazione all'intero consiglio comunale voglio ringraziare tutti voi che nel giugno nel duemiladiciassette avete scelto me quale figura istituzionale in questo consiglio comunale è stata per me un'esperienza bellissima che mi ha formato ancora di più sotto l'aspetto politico e amministrativo voglio ringraziare il segretario generale tutti i dipendenti che hanno collaborato con me a far sì che il mio ruolo fosse stato svolto sempre nel massimo rispetto correttezza e trasparenza per tali ragioni io vi comunico che solo e ripeto solo dalla carica di presidente del consiglio comunale della città di Agropoli mi porterò presso il protocollo generale per rassegnare le mie dimissioni faccio a voi tutti un buon fine d'anno e un bellissimo splendido anno 2022 grazie 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 grazie